Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui con una serie che viene dalla Spagna, la marca è Poschitos, spero si pronunci così, o Poschitos, forse non è anche la marca il nome di queste caramelle, cioccoladini, non so nemmeno che cosa c'era dentro, ma comunque è bellissima la serie di Doraemon che brillano al buio. Ecco qua, tre differenti personaggi da collezionare con, vedete, l'elicottero tra virgolette, questa è la cartina con la checklist, ecco qua, sono state fatte varie serie di questi Poschitos e ve le farò vedere perché ne ho altre, intanto partiamo da questa, eccoli qui, ce li vediamo tutti, partiamo con Shizuka, eccola qua, fatti bene comunque, fedeli al cartone, fedelissimi. Poi il painting non è proprio perfetto, però, vedete qui, però comunque fatti veramente molto molto bene, fedelissimi al cartone animato. Poi c'è Nobita, in questa versione con gli occhi chiusi e le mani dietro la schiena, vedete, tipo vecchio alle processioni di paese, ecco qua Nobita, è quello che mi piace di meno di questa serie, devo dire. Comunque, ecco qui Nobita e poi c'è Doraemon, quello che secondo me è il personaggio più bello di questa serie, quello fatto meglio, eccolo qui, guardate quanto è bello Doraemon. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro personaggio preferito e cosa ne pensate di questa serie. Detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi tutti i video sulle sorpresine, sulle action figure, sui videogames, sugli anime, su tanto tanto altro ancora. Lasciate un bel mi piace a questo video, commentate questo video, fatemi sapere cosa ne pensate, condividete questo video, seguitemi anche sugli altri social ed iscrivetevi ai miei altri canali YouTube. Trovate tutti i link in the box e noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!